All'Aquila già da qualche giorno è partito il progetto per il recupero dei farmaci validi non scaduti nelle farmacie comunali. I cittadini in forma permanente potranno portare 9 farmacie comunali provinciali, l'Aquila è la prima provincia in Abruzzo da attivare il servizio, i farmaci che non usano più, o per cambioterapia o per eccesso di scatole prescritte, li potranno portare nei presidi, negli appositi contenitori. L'iniziativa è del Banco Farmaceutico con il sostegno di diversi partner. I farmaci, una volta raccolti, saranno consegnati a due associazioni. L'iniziativa di recupero farmaci validi è un'iniziativa appunto del Banco Farmaceutico Onlus in collaborazione con alcuni enti della provincia dell'Aquila, in particolare con l'AFM, l'Asso Pharma, la provincia dell'Aquila e l'Asla dell'Aquila. Ha avuto un contributo per parte del Comune dell'Aquila e tutta l'iniziativa è diciamo sovvenzionata da Intesa San Paolo, in tutto il territorio nazionale. Dopo la raccolta, che è una raccolta permanente, questi farmaci a chi saranno donati? Tutti i farmaci vengono consegnati da pazienti o clienti delle farmacie che non hanno più bisogno di questi farmaci, vengono riposti nel contenitore adeguato e vengono poi distribuiti, una volta controllati e certificati da parte di un medico, a due associazioni che a loro volta li distribuiranno ai loro assistiti e sono la Croce Rossa Italiana, la Delegazione dell'Aquila e ALI, l'Associazione Latinoamericana Italiana, che li distribuisce in Sud America. Il recupero farmaci validi consente ai cittadini di donare i medicinali con almeno 8 mesi di validità correttamente conservati. Nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa sono posizionati contenitori di raccolta, in cui i cittadini possono donare i medicinali ancora validi, di cui non hanno più bisogno, assistiti dal farmacista che ne controllera scadenza e integrità, un progetto importante riservato ai più bisognosi che altrimenti non avrebbero modo di accedere ai farmaci e alle terapie. Quello che fino a ieri rappresentava un rifiuto oggi può rappresentare una risorsa. Questi farmaci sono ancora utili perché possono essere rimessi nel circuito della somministrazione e possono raggiungere persone che hanno necessità e bisogno e che altrimenti non potrebbero curarsi. Sono farmaci che hanno ancora una vita utile, residua, di almeno 6 mesi. Sono farmaci che sono integri nella loro confezione primaria e che non hanno bisogno di particolari prescrizioni per la loro conservazione. Delle confezioni di farmaci che residuano nelle proprie abitazioni, nei castetti della propria casa, possono essere portate in farmacia, nelle farmacie comunali della provincia dell'Aquila. I farmacisti verificano le tre condizioni essenziali perché la donazione possa essere effettuata, annullano il codice a barra del farmaco e viene immesso nell'apposito contenitore della raccolta.